Cos'è esattamente il microbiota? Un sistema che è formato da microrganismi che risiede abitualmente nel nostro organismo e che ha delle importantissime funzioni di difesa. Come fare per mantenerlo in buona salute? Qual è il ruolo della nutraceutica per appunto consentire questo obiettivo? Abbiamo parlato con il dottor Stefano Rabitti che abbiamo incontrato qui a Bologna al XIII Congresso Nazionale della Sinut. Dottor Rabitti, in che modo il microbiota intestinale può influenzare la nostra salute? In senso positivo ma anche ovviamente in senso negativo. Ormai la letteratura è molto evidente riguardo il microbiota intestinale. Sappiamo che il microbiota intestinale è un vero e proprio apparato che svolge delle funzioni determinanti per la salute del nostro organismo. Ad esempio partecipa alla sintesi di vitamine, al riciclo degli acidi biliari, anche al metabolismo dei grassi ad esempio, alla formazione degli acidi grassi a catena corta che proteggono la barriera intestinale. Inoltre il microbiota intestinale ha un'azione fondamentale di immunomodulazione, di detossificazione e anche regola l'asse intestino cervello. Sappiamo però che può alterarsi. In questo caso si parla di disbiosi quando viene ad alterarsi l'equilibrio del microbiota con una perdita dei batteri benefici e un aumento dei batteri patobionti o una riduzione della biodiversità. In questo caso questa situazione è molto pericolosa per la nostra salute perché può dare origine allo sviluppo di molte patologie, non solo a sintomi fastidiosi come gonfiore, dolore addominale, diarrea o stitichezza, ma anche lo sviluppo di patologie sistemiche. Quindi ci sono studi che dimostrano la sua associazione in caso di disbiosi con patologie metaboliche, patologie neurodegenerative, autoimmuni o patologie infiammatorie. È possibile modulare il nostro microbiota e in che maniera? Sì, noi possiamo modulare il nostro microbiota intestinale con diversi interventi. Sicuramente la dieta è il principale driver del microbiota intestinale, quindi agire con una dieta di tipo mediterraneo ricca in fibre ci può aiutare a aumentare la biodiversità. Poi abbiamo altri strumenti armamentari, sicuramente alcuni antibiotici non assorbibili, il trapianto fecale però è al momento soltanto relegato ad indicazioni specifiche e invece abbiamo tutti i giorni la possibilità di utilizzare probiotici, prebiotici e nutraceutici. Sappiamo però dagli studi ultimi che è importante selezionare i prebiotici e i probiotici giusti. I probiotici ad alte dosi ad esempio hanno mostrato una efficacia maggiore e sono in grado di colonizzare l'intestino in maniera più efficace. Inoltre i probiotici con multiceppi, magari insieme a prebiotici, riescono ad avere un'efficacia maggiore. Esistono ultimamente anche delle formulazioni che sono addizionate in nutraceutici, faccio ad esempio riferimento al mirtillo rosso o al melograno che hanno proprietà antiossidanti e antiinfiammatorie che possono agire di concerto insieme ai probiotici e ai probiotici per modulare il nostro microbiota e quindi dare effetti benefici al nostro organismo. Ci sono delle evidenze circa l'impiego dei probiotici in patologie intestinali ad esempio nell'intestino irritabile? Sì, sappiamo che l'intestino irritabile è una sindrome complessa e ci sono tanti studi che hanno provato a indagare l'effetto e l'efficacia di prebiotici, probiotici e nutraceutici sulla sintomatologia. Ad esempio è uscita una recentissima meta-analisi che ha valutato l'efficacia di probiotici sui sintomi contro placebo. Beh, è venuto fuori che è evidente un miglioramento delle sintomatologie in maniera significativa rispetto al placebo. Tuttavia non si riesce ancora a definire quale sia il ceppo migliore per quanto tempo quali dosaggi. In realtà ci sono ulteriori studi che hanno dimostrato un'efficacia sulla sintomatologia di composti di nuova generazione che contengono prebiotici insieme a un multiceppo di probiotico con alte dosi di batteri e anche addizionati di nutraceutici come l'acido ialuronico e estratti dell'alga litotamin che sembrano avere la capacità di poter portare i batteri probiotici a replicarsi nell'intestino in una maniera superiore ed avere effetti significativi sulla sintomatologia dell'intestino irritabile sia nel ridurre il gonfiore, il dolore addominale che anche le alterazioni dell'alvo come stitichezza di arrea. E quindi che messaggio finale possiamo dare per mantenere sano questo microbiota che come ci ha spiegato lei è così importante? Il messaggio è che bisogna innanzitutto conoscere il microbiota intestinale, sapere della sua importanza per la nostra salute e intervenire in caso di disbiosi con un approccio molto comprensivo che comprende dieta e utilizzo di prebiotici, probiotici e nutraceutici.